nonostante la gravità della situazione causata dalla pandemia in più occasioni sono state diffuse false informazioni che hanno contribuito a creare panico e incertezza si tratta del reato di procurato allarme così definito dall'art 658 del codice penale chiunque annunziando disastri infortuni o pericoli inesistenti suscita allarme presso l'autorità o presso enti e persone che esercitano un pubblico servizio è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516 in vero chi procura un allarme falso sproporzionato provoca un danno a tutti i cittadini e può pregiudicare il regolare svolgimento del lavoro delle forze dell'ordine e di quanti sono coinvolti creando falsi allarmismi e possibili disfunzioni durante la pandemia si sono avuti casi di procurato allarme i carabinieri hanno denunciato per il reato di procurato allarme un medico che abusando della sua posizione postava messaggi su whatsapp con i quali comunicava di falsi casi di positività al virus covid 19 creando di fatto una situazione di allarme sociale un infermiere è stato denunciato a causa di un proprio video diventato virale in rete che ha scatenato il panico e nel quale personalmente munito di mascherina e cuffia denunciava un caso sospetto di coronavirus la procura di bari ha aperto un'indagine per procurato allarme scatenato da alcune fake news su falsi casi di coronavirus ad opera di un infermiere di un altro cittadino che riferendo di una ragazza positiva al coronavirus al ritorno da one attribuiva per certo l'origine della epidemia ad una bomba chimica scappata da un laboratorio al fine di inginocchiare l'economia mondiale decimare la popolazione mondiale chi commette il reato di procurato allarme rischia l'arresto fino a sei mesi in realtà però perché si configuri l'ipotesi di reato e possa scattare la denuncia e la conseguente condanna occorre che la notizia divulgata sia falsa e data per certa abbia creato panico sociale e indotto le autorità competenza di intervenire qualora invece la notizia resa provochi solo un turbamento dell'ordine pubblico tale da non far scattare le procedure d'emergenza delle autorità si configurerà il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico articolo 656 c p che prevede l'arresto fino a tre mesi